Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e lasciare un mi piace. E non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti le ultime notizie. Grazie e buona visione! La prossima edizione del Grande Fratello Vipotto è avvolta da un'atmosfera di eccitazione e curiosità, poiché un mix coinvolgente di esperienza e novità caratterizza l'eclettico cast che si è delineato. L'atteso spettacolo unisce volti noti a nuovi protagonisti, creando un mosaico di età e stili unici. L'età media, stabilmente a 56 anni, dipinge uno scenario variegato, simile alle sfumature di un dipinto. Oltre ai più giovani come Annalisa Chirico, 37 anni, e Samira, 25 anni, spicca un'affascinante sorpresa, l'età media balza a 72 anni, aggiungendo un'impronta di esperienza unica al gruppo. La trama della nuova stagione del Grande Fratello Vipotto si preannuncia entusiasmante, poiché mette a confronto celebrità affermate e giovani promesse, con l'aggiunta di alcuni nobodi ancora in via di selezione. L'attenzione è focalizzata sulle personalità di spicco che si cimenteranno in questa avventura televisiva. In virtù delle precise indicazioni del direttore Pier Silvio Berlusconi, l'ingresso degli influencer e dei personaggi trash è stato vietato, conducendo a una selezione accurata e stimolante. Tra conferme, ritiri ed espansioni, spiccano nomi familiari come Corrado Tedeschi, 71 anni, Benedetta Boccoli, 56 anni, Brigitta Boccoli, 51 anni, Ninetto Davoli, 74 anni, Fiordaliso, 67 anni, Giustina Mattera, 52 anni, e Rossana Fratello, 72 anni. Ogni nome porta con sé una storia unica, destinata ad arricchire il variegato mosaico delle esperienze all'interno della casa. Una figura che si distingue tra i volti emergenti è Franco Oppini, l'attore comico e precedente compagno di Alba Parietti. L'ipotesi che possa accettare la sfida del grande fratello Vipotto è intrigante, soprattutto dopo aver declinato l'invito nella passata edizione per via di impegni teatrali. Questo conferisce un'atmosfera matura e vibrante alla prospettiva, e aggiunge un ulteriore strato di interesse alla stagione, in particolare considerando l'età media di 56 anni, escludendo i più giovani. Con il debutto fissato per l'11 settembre su Canale 5, l'attesa è palpabile. Il pubblico è ansioso di scoprire chi avrà il coraggio di barcare la soglia della casa più osservata d'Italia, e quali sorprese riserverà questa stagione. Le promesse di emozioni, dibattiti e momenti indimenticabili rendono l'attesa ancora più elettrizzante. Non dimenticare di iscriverti e lasciare un mi piace per non perderti i prossimi aggiornamenti. Grazie, alla prossima!